Nome Quale dei due termini è più antico? Io Lei Quale dei due termini è più attuale? Io, ma con un'accezione diversa Sempre lei Descriviti in due concetti Ricerca di sé e attività personale Affari commerciali e attività pubblica A quale dei due è meglio ambire? A me è ovvio A me, senza dubbio Perché? L'Ozium è un modello di vita Che concilia meditazione, esercizio fisico, buone letture, vita sociale ed individuale Insomma, il massimo a cui qualcuno possa ambire, no? Semplice Interessarsi ad affari commerciali, impieghi e tutto ciò che concerne l'evoluzione della società e della propria famiglia Aiuta la mente ad essere aperta allo sviluppo per una società quasi perfetta Scusa, ma se non sbaglio Questa società quasi perfetta di cui tu parli Ha fatto decadere l'impero più grande della storia? O no? Siete mai stati considerati dagli antichi e come? Certo! Poeti e filosofi come Seneca, Ovidio, Virgilio Non te ne vantare Hanno parlato anche di me D'altronde, senza il mio senso pratico, nessuno di loro sarebbe esistito Ma fammi il piacere Torniamo a noi Seneca, ad esempio, parla di me come la visione introspettiva del proprio essere Un modo per conoscere la propria anima Ovidio, poi, mi presenta come il raggiungimento di una maggiore sapienza Che coincide con l'attività letteraria Per Virgilio, d'altronde, io sono addirittura la pace Che presuppone una forma di attività serena e felice Tutte belle considerazioni, direi Sì, è vero Ovidio mi contrapponeva a lei Mi sottovalutava Rifiutando l'impegno politico Invece Seneca Pensa che io sia la massima espressione della sinergia Della coesistenza del tempo Dedicato all'intelletto E delle attività produttive Ma la società di oggi Cosa pensa di Otsium e Negozium? Sono due concetti conciliabili? A dir la verità Immaginando uno stile di vita che accomuni concili le migliori caratteristiche di Otsium e Negozium E confrontandolo con lo stile di vita moderno Quello più diffuso Le differenze che si notano sono tante D'altro canto Chiunque desidererebbe uno stile di vita Che unisca l'interesse per il sociale Per il lavoro Al tempo libero E alla conoscenza di se stessi In modo da ridurre la frenesia E l'utilitarismo Che sono presenti nel nostro modo di vivere Nel mondo odierno, infatti Si è troppo spesso proiettati e gravati Dalle attività della vita pratica quotidiana E meno spesso Si è propensi alla cura della nostra cultura Del nostro spirito E della nostra etica E noi giovani Grazie alla scuola e all'università Possiamo recepire e trasmettere agli altri Il messaggio di questa conciliazione Tra Otsium e Negozium Vogliamo che gli adulti lo facciano proprio Perché in questa maniera La cura dell'uomo e dei suoi interessi Sarebbero finalmente conciliabili Con quelli del Pene e Tempiero E di tutta la società Grazie a tutti